La Festa delle Badanti, ottimo servizio alla firma di Enrico Lucci del 27 ottobre 2015 in cui si parla per l'appunto di questa particolare festa, una festa molto divertente, piacevole e graziosa in cui per l'appunto le donne, quasi tutte di origine di nazionalità, Ucraina, Rumena, Mondale e quant'altro, quindi dei paesi dell'est e dell'Europa per l'appunto partecipano. Ci troviamo a, se non va di verrato, la città è Guselli, comune di Morfasso e qui si svolge questa carnessa, che non è in questo modo qua. Sulle altre, nel nord d'Italia, quindi infatti come ha detto anche lo stesso Festa di Colucci, in funzione del servizio, ci sono moltissimi ansiari e questi ansiari preferiscono, pericolano, avere per l'appunto una badante al fianco per essere badati, per essere guardati. Queste badanti sono molto belle, sono molto sexy, anche perché nella stragrande maggioranza dei casi appartengono a paesi dell'est dell'Europa, come detto poco anzi, quindi abbiamo una regionalità che, nello specifico, è quella che si trova nella parte est dell'Europa e qui ci sono, c'è il, diciamo così, più numero elevato di queste ragazze, anche molto belle donne che badano gli anzianotti, gli vecchietti. Questi anziani sono ben contenti, ma in questo servizio è, come ho detto anche più volte, viene fuori una caratteristica fondamentale di Colucci, la sua grande ironia, il suo grande sarcasmo, che vengono fuori in modo diretto fino a ogni suo servizio. Queste due caratteristiche, che io consiglio dei pregi di questo uomo, sono alla base proprio di questi servizi, che risultano quindi essere piacevoli, da vedere, da apprezzare, ma soprattutto servizi che hanno qualcosa da comunicare e che non annoiano mai, grazie a questa capacità, chiamiamola sarcastica, di entusiasmare gli altri da parte del buon Enrico Lucci. Vi ringrazio per l'assurdo, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, un saluto a tutti.